L'occasione per noi di ritrovare in diretta, questo è il streaming del pubblico Plasma Sena. Il periodo del carnevale è un'ottima opportunità per scoprire l'inizio d'inverno, e approfittare del clima, mettere la luminosità del cielo, dell'arte di vivere della cosa azzurra. Voi vengono a Giollmann, vi vengono e vengono, poter sempre per noi in Nis, d'accordo. Vengono, signor. Vengono, dimanche 23, questa è la ultima retransmissione in diretta, live, di tutto il corso carnavalesco. Vengono, signor.